L'Italia torna in giallo seppur rafforzato. Dopo la zona rossa durata praticamente per le vacanze natalizie, oggi è possibile spostarsi liberamente entro i propri confini regionali. I centri commerciali, negozi, bar e ristoranti sono stati aperti fino alle 18. Aperti anche parrucchieri ed estetisti. Sarà così fino a domani, poi nel fine settimana il colore si trasformerà di nuovo in arancione con maggiori restrizioni. Colore che da lunedì prossimo potrebbe restare in buona parte delle regioni italiane. Se Emilia Romagna si dà per scontata l'ordinanza del ministro Speranza e nel Lazio si guarda con apprezzione al peggioramento della curva, il Veneto ieri aveva superato la soglia, la Lombardia era al limite e la Liguria appena sotto. Rischio alto anche per Piemonte, Puglia, Calabria e Basilicata. Il vero rebus su cosa accadrà poi sarà a partire dal 16, giorno in cui dovrebbe entrare in vigore il nuovo DPCM al quale si metterà a mano nel fine settimana. Il nuovo provvedimento conterrà certamente regole rigide e la proroga di alcuni divieti, compreso quello di spostamento tra le regioni, almeno fino al 31 gennaio. Scontato il rinnovo del coprifuoco alle 22, così come la chiusura di palestre, cinema e teatri. È assai probabile che nelle zone gialle, bar e i ristoranti saranno ancora obbligati a chiudere alle 18.